ma che groppo insomma io giro di qua adesso giro qua di sopra non si può passare di qua a sinistra? c'è il terrazzo lì va a vedere c'è il sasso perchè se no faccio di qua forza eh ma bisogna vedere se ci faccio no basta di qua eh no di lì 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 è un po' meglio eh eh di lì è meglio di lì è fianco tu sei passato stretto c'era l'albero in mezzo alle valle bene 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 bene